Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo su The Sims 4, seconda puntata. Bene, iniziamo. Eccoci qui, andiamo dalla nostra famiglia. Eccoci qui. Adesso andiamo dalla nostra famiglia. Vediamo un po' cosa stanno facendo. Stanno mangiando, bene bene. Intanto li facciamo chiacchierare tra loro così aumentano la loro relazione. Complimento sincero. Rallegra. Racconta una storia sensazionale. Sì, che mi piace. Condividi un segreto, wow. Pinoe, sì sì. Abbraccia. Pettegola, mi fanno troppo ridere come parlano questi sim. Discuti delle tecniche di fitness, visto che ce lo avete in comune. Lei però dovrebbe anche vestirsi, eh? Cambia abiti quotidiani, uno dai. Oh, Pimpini. Discuti degli interessi, dovete fare assolutamente amicizia, cari miei. chiedi della carriera mi salta allora racconta una parzelletta sui marziani ora allegra livello superiore bravo impara a conoscere si si propriamente si complimenti sincero massimo ha scoperto i seguenti tratti di gaia ma l'aria aperta bene bene ci siamo ci siamo dai racconta una storia sensazionale in quanto però finite anche di mangiare non è male gaia inizierà a lavorare fra circa un'ora bene quindi gaia adesso andrà a lavorare vediamo come sta messa in salute qui sta bene dai ecco allora adesso gaia va a lavorare è brava lui avrebbe ancora fame però quindi mangia dov'è chi è andato a mangiare davanti la tv mi sa che anche gaia deve andare a lavorare adesso vediamo si infatti vai al lavoro caro gaia brava tu cos'è che stai facendo tu cos'è che stai facendo gaia si trova al lavoro bene le mettiamo lavoro a sodo allora lui lo facciamo sistemare un po' ti rimangi qualcosa ti lavi pure così usciamo belli puliti dopo togli anche la spazzatura non vedo perché buttarla qui caro visto che lì c'è il secchio bene allora così andiamo un po' in giro usciamo con qualche amica o amico vediamo oh wow guardate lì guardate lì che atleta io ti farei cucinare qualcosa perché è sempre mangiare torta formaggio grigliato per otto persone dai io faccio sempre porzioni per otto persone perché così la tengo in frigo e per un paio di giorni ce l'hanno poi se va male la butto pazienza speriamo che cucini qualcosa di buono caro mio acquisita abilità di cucina la nuova abilità di cucina di massimo gli permette di preparare piatti deliziosi classici e semplici miam più alto il livello di abilità più ricette vengono sbloccate bravo caro devi acquisire l'abilità caro mio caro mio massimuccio bravo adesso dovresti prendere una porzione bravo mangiare in fretta così andiamo un po' in giro bravo mangiare in fretta così andiamo un po' in giro eccoci qui allora cos'è che vuoi fare qui invia un sms energico bene lo facciamo subito allora ascoltare musica non lo facciamo per adesso perché dobbiamo inviare un sms energetico invio un sms energico ecco qua lo inviamo a alla nostra daniela fiorra la nostra amichetta del cuore ehi massimo anche io sento una grande carica andiamo in palestra bene accetta e seleziona si può qui viaggiare ok andiamo in palestra ecco eccoci qui eccoci in palestra finalmente allora entriamo dentro a fare un po' di sport andiamo a fare un po' di allenamento qui poi facciamo un po' di qui e un po' di qui bene nel frattempo nel frattempo però vorrei chiacchierare con l'amica qui con la mia fiorra oh 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 ancora complimento sincero guarda becca toc toc massimo ha scoperto i seguenti tratti di daniela buona piedi della caviera ora massimo può rallegrare la giornata dei sim bene bene condividi un segreto rallegra chiedi della tua giornata vado a conoscere vado a conoscere giovanni calone ho saputo che proprio ora c'è una festa magnifica al locale notturno vuoi farci un salto? purtroppo non possiamo quindi no direi che proprio no 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 iniziamola da allenarsi no discutì degli interessi ecco adesso facciamo amicizia anche con qualcun altro qui Matteo Montecchi oh questo qui è sempre un mio sim presentazione amichevole non posso più fare azioni bene ora andiamo un po' veloci ecco vediamo un po' allegra facciamo amicizia anche con Matteo Montecchi chiedi chiedi della sua giornata ecco qua stasera al bar ci saranno a non vedere gli uomini usciamo a divertirci non pensiamo scusa complimentati per l'abito intanto a lei le mettiamo a prenditi cura di te così la troviamo già a posto racconto una storia convogente e esatta vediamo un po' Mimlet Sabresia eh ah adesazione profonda ah 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 adesso anche con questa qui presentazione amichevole massimo ha scoperto i seguenti tratti di Matteo allegro bene vediamo un po' dobbiamo cercare di fare più amicizie possibili perché lui non conosce molta gente a complimento sincero mh 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 dim la huh mh 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 ecco qui ma questa è l'allenatrice ecco alessandra ci dai lezioni noi vorremmo delle lezioni se è possibile cara presentazione amichevole direi che possiamo farlo tornare a casa perché è molto stanco quindi torna pure a casa caro ecco qui eccoci qui tornati a casa lui è molto stanco allora come prima cosa direi che può andare in bagno può farsi una doccia poi andare a dormire vediamo lei cosa sta facendo è al computer bene vediamo lei cosa vuole fare ballare a ritmo della musica dello stereo bene andiamo sullo stereo vieni cara dove sta lo stereo madonna ah dobbiamo andare giù ecco qui lo stereo se non sbaglio era giù se non ricordo male eccolo qua allora balla su lezione sim macchine da ballo gai è una macchina da ballo le macchine da ballo amano ballare e i sim con questi tratti possono annoiarsi se non ballano da un po' bene adesso cos'è che vuoi fare? racconto una barzelletta ma lui mi sa che sta dormendo sì quindi la racconterai dopo e poi accendi un falò quindi dobbiamo fare una festa da falò nella prossima puntata la faremo sicuramente adesso vai in bagno e dopo vai anche te a dormire perché beh che dire questa puntata può finire qui per oggi e se questo video vi è piaciuto mettete un mi piace iscrivetevi al mio canale e noi ci vediamo alla prossima un bacio ciao ciao